Buongiorno a tutti e bentornati al Caffè Letterario, siamo al capitolo 27, alla storia 26 e qui leggeremo di un moaddo, una parola di cui non sappiamo nulla, non si conosce il significato preciso, forse principe, forse signore, ma qui poco importa, lo sappiamo, il novellino non evidenzia, non dà importanza né alla realtà storica né alla componente spaziale o temporale, i personaggi non interessano per il riferimento storico preciso, ma semplicemente per l'insegnamento morale, quindi per l'intento didascalico, per la virtù o il valore che vogliono insegnarci. E notiamo, leggendo la storia, il diverso comportamento tra il protagonista, questo moaddo, questo signore, e invece una persona incontrata per strada, perché qui vengono proprio messi a confronto due modelli di comportamento completamente antitetici. Uno grande moaddo andò ad Alessandria, quindi Alessandria d'Egitto, siamo di nuovo in Africa e qui Alessandria viene citata perché allude a tutto quel mondo orientale, arabo, quindi lontano anche dal mondo cristiano, e andava un giorno per sue bisogni e per la terra, quindi camminava per le strade della città per i suoi affari, e un altro li veniva di dietro e diceva lì molta villania e molto lo spregiava, quindi una persona lo segue e continua ad insultarlo pesantemente, soprattutto continuamente, e quelli non faceva nieno motto, però questa persona, questo moaddo, non risponde nulla, cioè lo ignora e continua ad andare per la propria strada. E uno li si fece dinanzi e disse, oh, che non rispondi a colui che tanta villania ti dice, ehi, perché non rispondi, non dici nulla a questa persona che continua a dirti così grandi villanie, tutte queste parolacce, questi insulti, e quelli, sofferente, cioè paziente, rispose e disse a colui che gli dicea che rispondesse, io non rispondo perché io non odo cosa che mi piaccia. Spesso e volentieri attraverso il motto di spirito, attraverso la parola, la battuta, i personaggi si traggono d'impaccio, in questo caso invece la parola serve per dare un insegnamento molto importante, notiamo che qui alle parole corrispondono poi anche i fatti, quindi questa è una persona coerente perché mette in pratica quanto dice, lui non le ascolta nemmeno queste offese, lui non sente, dice cose che piacciono, quindi ignora completamente queste persone. La migliore risposta è il silenzio, non bisogna nemmeno rispondere alle critiche, esiste una famosa frase che dice dove l'ignoranza urla l'intelligenza tace, siamo proprio di fronte a questo esempio, il vero saggio, la persona intelligente non si abbassa allo stesso livello di queste persone volgari, rozze, villane e soprattutto ignoranti, il saggio finge di non sentire nulla e prosegue per la sua strada, non spreca nemmeno un istante del proprio tempo per rispondere a queste persone perché sa già in partenza che non potrebbe in alcun modo far cambiare loro idea, non potrebbe di certo istruirle in questo momento e sa circondarsi soltanto delle persone giuste. Alla prossima!